nel nostro viaggio ideale alla riscoperta delle origini del suono analogico passiamo adesso al registratore a bobine sulle open wheel recording e ascoltiamo un telefunken che proviene dalla radio nazionale olandese e quando è andato in disarmo è approdato qui dal mister van den wall e ora vediamo come funzionavano yes please yes i have here recording of sin martin in fields sir level mariner always keep the reals vertical to avoid falling of the tape find the two holes two holes this is how it works it should be better i think we do it again this follow the routing of the recorder by the red lines stick the end of the tape in the slot keep your hand on it and just rotate without letting the tape and move away and the first thing is the speed so i've adjusted on 90 cm second i like to move forward and say play now there's a tone first on the tape with a warp for the timing this is the concert hall peccato che la telecamera non possa riprodurre quello che si sentiva già prima a livello di ambienza let's go just follow the red line to be sure that you don't miss a wheel you can do it this way or you can do it this way but it's always behind it and over it put the end of the tape in the slot hold with your finger so it doesn't slip out and rotate and rotate and rotate first when everything looks fine and everything is rotating then we say play play forward and press the button on the beginning of the tape there's a tone that's a measurement tone to adjust levels so when i turn up the volume and this is the concert hall it's a peccato che la telecamera non possa riprendere in maniera corretta l'audio che stiamo ascoltando i rumori di fondo che si sentono nell'auditorium 5th january 5th january 977 academy of saint martin in the fields conducting nevo mariner 6th january 6th january 6th أして 8 8 9 9 10 y 9 y 12 12 x ma più vicina all'originale, almeno per il mio modo di ascoltare la musica. Questo è il florevo, con un grande bale, che è così alta inertia, quindi hai una velocità stabilità e velocità. Il motore è qui. E abbiamo usato la nostra nuova 3T-cablete tecnologia qui, che ciò che ciò che è spiegato. Il slot per il testo di tape, il testo di tape, per il testo di 45 gradi, per il testo di montaggio, alcuni faders per il studio, il testo controllo, e una buona giornata di musica. Grazie. Eccoci finalmente arrivati all'ultimo stadio dell'ascolto analogico, il giradischi, quello che ancora oggi siamo in grado di usare, utilizzare regolarmente e amare durante i nostri ascolti. Coglieremo anche l'occasione per parlare un po' delle testine, ovviamente, e di tecnologia della stessa Van den Goel. Coglieremo. 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 Coglieremo.